Esce Cambiaghi, è il momento di uno dei giocatori più attesi, Tommaso Baldanzi. Luperto. Fallo su Baldanzi, entra subito prendendo un calcio di punizione. Tra poco a Cervi nell'Inter, Baldanzi, Henderson, As e Buei. De Winter, Henderson. Recupera Lautaro parzialmente però Bandinelli continua a far giocare l'Empoli. Pronto anche Robin Gosens. Zaghi valuta anche il livello di energie dei suoi giocatori dopo il dispendio di Riad. Bastoni, prova a strappare. De Winter la gioca di nuovo davanti. Darmian, Cialanolu, subentra Barella. Bastoni ha visto Di Marco che è candidato a uscire. Barella. De Vrij. Morbido per Bellanova. E' buono l'aggancio. Va a puntare Parisi. Bellanova. Le finte. Si resta libero. Miki Tarjan. Barella. Lo attende Buei. Una finta. Barella non calcia. Bastoni in area. La mette dentro De Winter con la faccia. Riparte Bairami. Lì vicino Baldanzi. Palla per lui. Eccolo Baldanzi. Prende ritmo. Bairami. Dall'altra parte Caputo. Bairami per Baldanzi. Baldanzi! Entra e segna. Grande firma. Quella di Baldanzi. Baldanzi! Talento cristallino. Certificato. Da un gol a San Siro. Baldanzi! L'Empoli è in vantaggio. E lui a trascinare sulla squadra. Connessione tecnica con Bairami. Controlla. Calcia potente col sinistro. Addosso a Unana. E qui non riesce ad opporsi. Tiro centrale. Di Baldanzi. Che si trasforma nell'1-0. Al terzo pallone toccato. Porta in vantaggio Lempoli. L'abbraccio poi con Zanetti. L'abbraccio poi con Zanetti. Oggi ha scurato. L'abbraccio poi con Zanetti. L'abbraccio poi con Zanetti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.